Accettare il ritorno dell'ex? Questa è una domanda che viene fatta molto spesso. Allora, il concetto di fondo è questo. Se a te questo ex interessa, o questa ex, perché vale anche per le donne, allora, intanto non devi cagarlo neanche di striscio. Quando un ex diventa ex, tu non devi neanche più prenderli in considerazione. Devi trattarlo come se fosse un frigorotto, devi trattarlo come se fosse, come dire, una cartuccia sparata, una merda schiacciata. Non devi prenderlo in considerazione. Poi, se torna, dandogli tutta questa indifferenza, è probabile che torni, perché si chiederà ma come mai? Allora, se proprio ti interessa, devi mettere dei vincoli altissimi, devi farlo passare sotto le forche caudine, devi fargli ammazzare il drag a sette teste, fargli fare proprio veramente, trattarlo di merda, fargli fare di tutto, se accetta e subisce tutti i vincoli, allora te lo puoi riprendere. Metti un like con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti!